Allora ragazzi, una domanda. Chi è che di voi per alzata di mano conosce Tether? Sapete chi è uno dei massimi esponenti che ne sa di più di Tether? E' facile Masutti. Abbiamo Riccardo Masutti che si occupa della cyber security di Bitfinex e Tether e ci parlerà proprio del futuro di Tether. Quindi ascoltate bene e poi fateli tante tante domande. A te Riccardo. Allora, sono spacciato perché volevo iniziare lo speech chiedendo quanti di voi non sentito mai parlare di te. Giuro. Quindi è finito il mio speech, grazie. No, scherzo. Beh, ciao a tutti. Piacere Riccardo. Allora cambierei domanda, visto che Giuliano mi ha rubato l'introduzione di questo speech. Ho visto che tanti conoscono Tether. Quanti di voi utilizzano Tether per esempio su Ethereum? Un prezzata di mano? O su Solana? Perfetto. Quanti di voi hanno mai utilizzato Tether su Bitcoin? Ok. Grazie. Quindi oggi il tema è proprio questo, capire la storia di Tether, dove è nato, perché è nato, quando è nato e capire anche il futuro di Tether. Tether è comunque un'azienda composta prevalentemente da Bitcoiner e come Bitcoiner crediamo tantissimo negli aspetti appunto di Cypherpunks, dei Cypherpunks crediamo tantissimo nell'aspetto di decentralizzazione del denaro, di hard money, dell'alternativa che dà Bitcoin rispetto a quello che ci viene imposto appunto giorno d'oggi, quando parliamo di finanza tradizionale. Il titolo è appunto Tether, quindi una stablecoin sicura, moderna, veloce e scalabile su Bitcoin. Adesso farei un'altra domanda, visto che comunque Giuliano mi ha rovinato dentro dello speech. Secondo voi, vediamo se qualcuno lo sa, Tether quando è che è nato? Quanti anni fa? Uno, due, cinque, sette, dieci, quindici? 2017. Qualcun altro? Secondo te? 2015? Qualcun altro che vuole andare un po' più indietro? Ok, in realtà Tether è nato nel 2014, ad ottobre 2014, quindi sono dieci anni che porta innovazione nel settore delle criptovalute, come vedete nella sala tantissime persone oggi usano Tether, nel mondo intero un sacco di persone utilizzano Tether, parliamo di centinaia di milioni di persone, probabilmente non so questo dato in questo momento, però dovete capire che la storia di Tether parte veramente ormai quasi dieci anni fa e non parte su qualche altcoin, ma parte esattamente su Bitcoin. Adesso, il 2014 è stato un periodo e un anno molto particolare per Bitcoin. Possiamo ricordare il 2014 come l'anno in cui è stato hackerato MTGOX. Immaginate che nel 2014 MTGOX processava più del 70% di tutti quanti gli acquisti e le vendite di Bitcoin rispetto a altre valute. È stato hackerato e se non sbaglio il 7,5% di tutti quanti i Bitcoin in circolazione sono stati rubati. Parliamo di 850 mila Bitcoin. Nel 2014 Bitcoin valeva solamente, quindi la capitalizzazione totale di mercato valeva solamente 5 miliardi di dollari. Quindi veramente sono dieci anni fa, sono tanti anni fa e sono tanti miliardi di capitalizzazione fa. Nel 2014 Bitcoin è passato da circa 800 dollari a poco più di 200, 250. Quindi è stato un periodo di forte stress per tutta la comunità, un periodo di forte stress per tutta l'industria, anche perché, come potete capire, c'è stato un bel problema dopo lo scandalo di MTGOX. Qua ho messo degli screenshot, per esempio, un articolo di Forbes del 9 marzo 2014 che parla appunto dell'hackeraggio di MTGOX e anche di uno screenshot pubblicato, se non ero, dai presunti hacker che avevano avuto accesso ad alcuni sistemi di MTGOX. Ma nonostante ciò, in un periodo di incertezza così alta per Bitcoin, in un periodo di paura così alto per Bitcoin, in un periodo di perdita di fiducia da parte della community rispetto a Bitcoin, successe qualcosa. Nello specifico, ci fu questa transazione il 6 ottobre 2024 e questa transazione potrà sembrare una transazione normalissima, certo è una cosa che ci appare all'occhio, ci sono più multisig, 2 di 3, 1 di 3, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà questa è la nascita di Tether. Quindi una transazione che è andata a emettere per la prima volta nella storia una stablecoin sulla blockchain di Bitcoin, grazie al protocollo di Omni. Quindi se lo trovo nel 2014, Omni è il primo layer utilizzato da Tether per emettere la prima stablecoin al mondo. USDT quindi nasce su Bitcoin. Capitalizzazione totale di Tether, zero. Questo è l'inizio. Questo è esattamente quello che è successo. Quindi la creazione di Tether, di una stablecoin, su Omni, confermata, una transazione normalissima di Bitcoin, in realtà però ha lasciato anche un messaggio molto molto importante, ovvero, potete leggere qua, the next paradigm of money, il nuovo paradigma del denaro. Ecco che è importante capirlo. Oggi Tether esiste su un sacco di network differenti, su un sacco di blockchain differenti, però è nato su Bitcoin, è nato su Omni. C'è un problema però. Se torniamo indietro, vediamo che tutto questo aspetto qua è trasparente. Il problema della blockchain di Bitcoin è che, come ben sapete, è estremamente trasparente. E anche non è velocissima, quando si tratta di effettuare transazioni, e soprattutto, oggi lo vediamo molto bene, tende ad essere comunque anche molto costoso il transatore su Bitcoin. Però, ricordiamoci che è nato da qua. In quel periodo là, il market cap di Bitcoin era di circa 5 miliardi di dollari, l'utilizzo e l'adozione era relativamente bassa, però ecco, è importante capire questa cosa qua. Andiamo avanti, facciamo un salto di ben 5 anni. Dal 2014 al 2019, Tether viene poi implementato su tante altre blockchain e network, come Ethereum, IOS, Algorand, Solana, e nel racconto di 5 anni raggiunge Tether 5 miliardi di capitalizzazione. La stessa capitalizzazione totale di Bitcoin nel 2014. Ovviamente Tether è sempre andata a rispondere a esigenze e richieste del mercato, perché ovviamente Omni, Bitcoin, aveva dei pro e dei contro, quando si trattava di scambiare appunto Tether e USDT. Ethereum magari proponeva qualcosa di diverso, qualcosa di più veloce, IOS allo stesso tempo, Algorand allo stesso tempo, però ricordatevi una cosa, c'è una bella e netta distinzione da fare tra Bitcoin e il resto. Bitcoin ancora una volta è denaro, è una blockchain, è un network antifragile, resiliente, resistente ad attacchi anche molto molto pesanti da parte di entità esterne. Ed è l'unica veramente decentralizzata. Le altre ovviamente hanno dei pro, sicuramente possono essere più veloci, possono essere più economiche, ma nel lungo termine faticano a rimanere, la storia ce lo insegna, perché tendono a non scalare, o tendono comunque a diventare troppo pesanti per scalare correttamente e permettere a tutti di poter gestire appunto i propri nodi in modo semplice. Però ha dato un boost molto importante a Tether, il mercato richiedeva la possibilità di scambiare Tether su Ethereum, su IOS e su Algorand e così è stato. 28 luglio 2019, Tether viene implementato sulla sidechain di Bitcoin, Liquid. Liquid è essenzialmente una sidechain federata di Bitcoin, che anche in questo caso ha pro e contro, si scende a compromessi, si ha un po' meno di decentralizzazione, ma un po' più di velocità, un po' più di privacy e un po' più di economicità. In questo caso, Liquid, il Tether, è un top of Liquid, consente transazioni veloci, private e si cura in tutta la rete. 28 luglio 2019, Tether raggiunge 18 miliardi di market cap. E questa è la transazione di creazione, diciamo di emissione di Tether sulla sidechain di Liquid. Adesso, comparando questo screenshot, al primo screenshot che vi ho mostrato delle emissioni di Tether su Omni, cosa riuscite a vedere, cosa riuscite a distinguere rispetto alla prima emissione di Tether su Omni Protocol, su Bitcoin. Qualcuno dice multisig, che qua non c'è un multisig, dici? Ok, qualcun altro vede qualcosa di diverso? Le FI, quindi potenzialmente minori, c'è qualcos'altro di forse più importante? Zero? Non si vede niente? Beh, diciamo che si vede qualcosa. Diciamo che la differenza principale tra la sidechain di Liquid e la blockchain principale di Bitcoin è che su Liquid si sfrutta il concetto di transazioni confidenziali. In questo caso noi riusciamo a vedere comunque gli indirizzi che effettuano transazioni, ma non riusciamo a vedere il valore e l'importo scambiato. Questo capite bene che è una feature molto importante quando si tratta di denaro. È importante secondo me, perché credo tantissimo al diritto, alla Pravis che è un diritto umano, ed è anche una battaglia, per cui dovremmo batterci di più per fare in modo che la nostra Pravis venga rispettata. Liquid è nata come soluzione, come alternativa, come sidechain a Bitcoin che permette questo, quindi permette transazioni potenzialmente più veloci. non ho capito. Mi chiede se quello che è confidenziale è che l'importo non si può trovare o ipotizzare dalle fini. In realtà no, nel senso che non vediamo gli importi in input e output, giusto? Però, ripeto, vediamo comunque gli indirizzi. Questa è una cosa importante perché ci permette in questo caso su Liquid non solo di transare Liquid Bitcoin ma anche di transare Tether o altri comunque asset digitali in maniera un po' più veloce e un po' più privata soprattutto. È importante allontare una cosa però. A differenza di Bitcoin che è trasparente by default e by design quindi che ha pochissima privacy Liquid è privato by design e by default con però la possibilità per mittente e destinatario di condividere informazioni sulla transazione. Io come mittente e destinatario di una transazione di Liquid posso condividere la mia blinding signature con una terza parte e questa terza parte può letteralmente vedere gli importi che vengono transati da e verso quello specifico indirizzo. Quindi permette di essere privati permette di utilizzare Bitcoin in maniera più privata permette di utilizzare Tether in maniera più privata sfruttando comunque le caratteristiche di Bitcoin perché questo ancora è Bitcoin. non è un altcoin ma soprattutto permette anche di essere trasparenti rispetto a una terza parte che ci chiede informazione rispetto a qualcuno che vorrebbe conoscere il contenuto. Noi però possiamo farlo è una nostra scelta e decisione. Quindi la differenza come possiamo vedere tra Bitcoin on chain e Liquid side chain di Bitcoin è che a sinistra il sender il receiver quindi il mittente il destinatore di una transazione vedono tutto ma anche a destra su Liquid il mittente del senatore di una transazione vedono tutto però terze parti il pubblico a differenza di Bitcoin on chain non è in grado di vedere gli importi scambiati e questa è una feature molto molto importante di Liquid è una feature che tutela a travesse delle persone fa in modo appunto di essere e di proteggere una cosa molto importante che sono le nostre informazioni finanziarie immaginate che ogni volta che voi effettuate una transazione su Bitcoin o su tante altre altcoin state scrivendo un'informazione finanziaria su un libro masto decentralizzato indelebile e mutabile per sempre quindi quello che scrivete oggi esattamente come la famosa pizza di Laszlo Hayez pagata a 10.000 Bitcoin 14-15 anni fa è ancora là tra 15 anni quello che voi state scrivendo oggi sulla blockchain di Bitcoin o su tante altre coin a meno che non muoiano e non vadano totalmente offline cosa improbabile con Bitcoin tra 15 anni sono ancora là con le informazioni finanziarie facciamo un altro passo in avanti dal 2019 al 2022 Tether viene implementato su nuove blockchain come Tron Avalanche Polkadot Tezos eccetera e raggiunge 79 miliardi di capitalizzazione ancora una volta il mercato richiede Tether provvede e permette ai partecipanti di un network specifico di una blockchain specifica di utilizzare Tether su quella specifica blockchain però non è ancora Bitcoin ricordiamoci una cosa Tether nasce su Bitcoin Tether è costruito portato avanti da Bitcoiner 22 marzo avviene la prima transazione di Tether in un canale di Lightning Network adesso Lightning Network cos'è? è semplicemente un layer superiore a Bitcoin più decentralizzato potenzialmente rispetto a Liquid che è una sidechain e a sua volta permette transazioni veloci permette transazioni private e essendo al di sopra di Bitcoin sfrutta tutte le caratteristiche di sicurezza di decentralizzazione di resilienza di antifragilità del layer base Tether in questo caso durante la giornata del 22 marzo 2022 raggiunge 81 miliardi di capitalizzazione adesso questa è la transazione diciamo effettuata dal team di Syronim in combinazione con Omnibolt che appunto mostra la prima transazione di Tether e gli S&T su Lightning Network ma perché è interessante Lightning Network allo stesso tempo e allo stesso modo di Liquid Lightning Network permette transazioni private ok ma c'è una bella differenza non c'è nessuna blockchain le transazioni che vengono effettuate su Lightning Network non si chiamano nemmeno transazioni ma si chiamano pagamenti e questi pagamenti non vengono registrati su una blockchain non vengono lasciati su un libro mastro immutabile che tutti possono verificare le informazioni finanziare rimangono in questo caso tra il mittente e il destinatario appunto del pagamento adesso è molto interessante il funzionamento di Lightning Network perché ancora una volta sfrutto tutte le caratteristiche di Bitcoin è Bitcoin Lightning Network è Bitcoin non c'è nessun token dietro non c'è nessuna altcoin non c'è nessuna nuova blockchain o network è Bitcoin ed immaginate che è una rete di canali ok letteralmente una rete di canali fulminia del Lightning Network quindi essenzialmente cosa posso fare su Lightning Network posso aprire un canale creare una transazione vera e propria con una pizzeria la mia pizzeria preferita e fin tanto che quel canale è aperto io potrò scambiare e inviare e ricevere tra me la pizzeria potenzialmente infinite transazioni senza mai doverle scrivere sulla blockchain di Bitcoin capite bene che è molto più privato è molto più economico ed è molto più veloce non dobbiamo aspettare 10 minuti per ogni blocco non dobbiamo competere con altre centinaia di migliaia di persone che vogliono fare transazioni su Bitcoin non dobbiamo preoccuparci del fatto che le nostre informazioni finanziarie vengano registrate per sempre su una blockchain trasparente in questo caso Lightning Network permette tutto ciò con il concetto di onion routing immaginate quindi che io voglia trasferire dei Bitcoin a un altro partecipante del network nonostante io non abbia magari nello specifico un canale diretto con questa persona posso comunque sfruttare tutti i canali che si sono formati all'interno del grafo di Lightning Network tra tutti i partecipanti e fare in modo che la mia transazione in qualche modo arrivi alla pizzeria oppure al merchant oppure al mio amico a cui voglio inviare dei Bitcoin ok quindi ipotizziamo che io ho un canale con te che te ho un canale con lui che lui ho un canale con lui che lui ho un canale con lei in questo caso io posso arrivare a lei sfruttando le connessioni che ci sono e tutti gli intermediari che ci sono tra me e lei ovviamente uno dirà sì ok ma vuol dire che tutti gli intermediari possono vedere diciamo gli importi che vengono scambiati mi tentano gli destinatari in realtà no il concetto di Nonion Routing su Lightning Network è molto figo molto interessante immaginate che anziché inviare dei Bitcoin io sto inviando una cipolla a lei in questo caso nessuno degli intermediari è in grado di vedere il centro della cipolla il nocciolo non so come chiamarlo ma è in grado semplicemente di vedere lo strato il più esterno e ogni volta che c'è un passaggio un intermediario tra me e la controparte gli intermediari staccano diciamo una parte della cipolla ok uno strato della cipolla appunto da qui Onion Routing tutti i partecipanti tutti gli intermediari quindi ipotizziamo che Alice voglia inviare dei Bitcoin a Eric o dei Tether a Eric gli intermediari non sanno che Alice è il mittente ed Eric è il destinatario sanno solamente qual è lo step precedente e qual è lo step successivo da chi dice vuole la cipolla e a chi devono inviarla questo concetto è molto importante molto bello perché permette ancora una volta di avere privacy by default di poter scambiare asset cripto finanziari senza scriverli su una blockchain senza dare fiducia a nessuno degli intermediari tra noi e la controparte in modo veloce in modo economico e tutelando la nostra privacy quindi vedete tutto quello che c'è tra noi e la nostra controparte sull'Ethernetwork non sa qual è il mittente destinatario non può sapere esattamente quant'è l'importo totale scambiato ma semplicemente sa che diceva da qualcuno e deve inviare a qualcun altro hanno domanda? come si fa a creare un canale di pagamento un payment channel essenzialmente tu mi devi dare diciamo l'ID o la public del tuo nodo ok essenzialmente io cosa faccio vado a creare una transazione vera e propria sulla blockchain di bitcoin apro un canale che è una transazione vera e propria sulla blockchain di bitcoin un multisig con te e in quel caso siamo in grado di scambiare valore bitcoin intramette all'infinito senza dover scrivere altre transazioni sulla blockchain ok è importante questo perché questo ancora una volta è bitcoin quindi tether nasce su bitcoin viene implementato su tante altre blockchain e dopo ritorno di liquid e dopo ritorno di lightning network appunto e dopo ritorno di liquid torna di nuovo su bitcoin grazie a lightning network 6 agosto 2023 ovviamente tutte cose belle ma c'è qualcosa di negativo di malinconico purtroppo tether interrompe il supporto per omni tether nasce su omni tether nasce su bitcoin grazie a omni protocol però capite bene che il mercato decide se un qualcosa non viene utilizzato non ha senso che esista che continua a esistere in questo caso per via di questioni comunque tecniche tecnologiche ma soprattutto di adozione di tether da parte della community e da parte di diversi diversi entità nell'industria tether decide di interrompere il supporto per omni come di altre blockchain allo stesso tempo però raggiunge 84 miliardi di capitalizzazione vedete nel corso degli anni omni appunto ha dovuto affrontare molte sfide dovuto alla mancanza del fatto che non c'erano altri token popolari molto scambiati su omni ma anche perché c'erano nuovi competitor nuovi avversari nuove blockchain nuove alternative e anche molti exchange hanno incominciato a favorire altri network altri blockchain altre cose rispetto a omni in questo caso vedete io vi ho chiesto ethereum vi ho chiesto di solana vi ho chiesto di altre blockchain molto più famose rispetto ad omni adesso vi chiedo una cosa quanti di voi hanno mai scambiato tether su omni vedete nessuno perché probabilmente c'era qualcosa di migliore rispetto a omni ma parliamo invece dello stato odierno di tether ok abbiamo passato tutta la storia di tether parliamo di quello che c'è oggi 30 maggio 2024 tether è presente su 15 network 15 blockchain diverse per semplificare ha una capitalizzazione totale di 112 miliardi di dollari e investe enormemente sullo sviluppo di bitcoin e su layer superiore ad esso come lightning network ma perché bitcoin perché ce l'abbiamo su con bitcoin perché non ci limitiamo a rimanere su altcoin diverse su alternative perché ripeto siamo bitcoiner ok crediamo fortemente nel valore di bitcoin nell'esistenza di bitcoin e faremo di tutto per difendere bitcoin fare in modo che la gente utilizzi bitcoin siamo radicati appunto nella convinzione che sfruttare la blockchain più sicura verificata decentralizzata ma costruita che ha bitcoin sia la cosa giusta da fare in questo momento tether sta contribuendo ed investendo attivamente nello sviluppo di rgb rgb non è altro che ci tengo a citare insieme al team di bitfinex e fulgur ventures non lo specifico il progetto portato avanti da federico che spero che guarderà questo video e cos'è rgb è essenzialmente un sistema di smart contracts client side validated che opera sui layer 2 e 3 di bitcoin ok è ancora bitcoin è ancora bitcoin è tether on top of rgb on top of lightning network on top of bitcoin perché in teoria crediamo la community bitcoin crede che scalare nel modo corretto sia attraverso layer superiori a bitcoin non cambiando il protocollo di base le regole di base bitcoin fino ad oggi è resiliente per un motivo specifico proprio perché è lento rispetto ad altre altcoin perché è costoso rispetto ad altre altcoin e perché è stato ideato in modo tale da essere antifragile una parola importantissima antifragilità appunto rgb adesso inaugura una nuova era per tether perché è supportato in modo sicuro da bitcoin e lightning network ed è costruito da bitcoiner per bitcoiner ed è protetto dalla sicurezza e antifragilità di bitcoin poiché funziona sia on chain che su lightning network e questa cosa qua permette una scalabilità senza pari ma allo stesso tempo anche una privacy senza pari portata avanti grazie al funzionamento di lightning network come vedete dieci anni dopo rgb tende e sembra e integra tutti gli ingredienti giusti per essere legittimo successore di bitcoin e di di omni protocol 2014 tether nasce su only protocol 2024 non posso dire 2024 perché non so esattamente quando tether sarà disponibile su rgb ma circa dieci anni dopo c'è un enorme lavoro e ricerca e sviluppo sull'integrazione di tether su rgb ho solo tre minuti perché quindi preferire l'utilizzo di tether on top of bitcoin on top of rgb on top of lightning network perché l'altcoin certo funziona molto bene ok grazie mille siccome mi hai rubato l'introduzione allora ti rubo io cinque minuti e quindi capite bene che ci sono sempre compromessi bisogna scendere sempre a compromessi il problema dell'altcoin è molto semplice minor decentralizzazione significa minor sicurezza e resistenza alla censura bitcoin è resistente alla censura c'è un'affidabilità a lungo termine incerta se guardiamo per esempio coin market cap fingiamo negli ultimi dieci anni le top dieci sono sempre cambiate ed è anche molto difficile gestire proprio nodo per via di mancanza di storage per via di mancanza di bandwidth e per via di mancanza di potenza computazionale avere un nodo bitcoin è molto semplice è molto facile e chiunque nel mondo può averlo ok al giorno d'oggi chiunque nel mondo può averlo un nodo bitcoin allo stesso tempo perché quindi non pensare ad altri token esistenti su bitcoin come appunto RUNS BRC20 eccetera 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 perché ancora una volta tutta la logica on chain c'è una bassa privacy siamo sempre on chain quindi è tutto visibile c'è una bassissima scalabilità perché non si può scalare in quel modo là e non c'è nessuna compatibilità per Lightning Network che sia per essere appunto il metodo migliore per scalare bitcoin quindi il futuro sarà questo secondo me e spero di che sia questo ovvero un'integrazione di bitcoin di Lightning Network di RGB di Tether e la possibilità di sfruttare e scambiare Tether on top of bitcoin ricordiamoci che oggi tutti noi tutti voi e me lo avete mostrato all'inizio scambiate Tether su tantissimi altcoin ma ricordatevi che il motivo per cui lo fate oggi è perché è nato bitcoin nell'ontano 2009 e perché è nato Tether nell'ontano 2014 su bitcoin grazie ad Omni è quindi importante secondo me come community come industria ricordarci che bisogna aiutare bitcoin bisogna studiare bitcoin bisogna educarci ed educare gli altri su bitcoin e cercare anche di utilizzare bitcoin Tether è disponibile adesso su Liquid Network dateci un'occhiata Tether sarà disponibile su RGB a breve se volete avere maggiori informazioni potete andare su il sito rgb.info rgb.info oppure su github.com rgbtools ci sono già delle implementazioni di RGB in questo momento tipo Iris Wallet che è un wallet per Android open source per fare l'issuance spendere e ricevere asset via RGB c'è Bitmask che è un'estensione per il browser appunto per sfruttare RGB MyCitado Shiro e diversi vi ringrazio per l'ascolto spero che vi sia piaciuto questo speech e grazie a Tether blockchain blockchain we grow e grazie a Tether